Il comune di Castellabate ha aderito in forma associata da capofila con altri comuni, Futani, Monte Corice, Rofrano e Trentinara, per poter ottenere fondi pari a 5 milioni di euro. Obiettivo del progetto sono i lavori di rigenerazione urbana finalizzati al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale della frazione di Santa Maria di Castellabate, sede della Municipalità, nello specifico la messa in sicurezza della strada principale di accesso alla frazione, la realizzazione di un marciapiede lungo la strada regionale ex strada statale 267 e la manutenzione straordinaria di piazza Izzo e piazza Lucia. Il nostro obiettivo, ha dichiarato il sindaco Marco Rizzo, è quello di rendere Castellabate un paese sempre più vivibile e una meta turistica sempre più rinomata, grazie a questi fondi del progetto di rigenerazione urbana di cui il nostro comune capofila riusciremo a risolvere delle problematiche che soprattutto nei periodi di maggiore affluenza diventano cruciali per l'intero territorio. La sinergia intercomunale in progetti di questa portata risulta indispensabile come solida base su cui costruire un piano turistico culturale, duraturo e condiviso. Questo è solo l'inizio di un progetto ben più ampio di cui la nostra Castellabate è protagonista. L'assessore Nicoletta Guariglia afferma che fondamentali risultano questi fondi che lo Stato garantisce agli enti locali come supporto per la rigenerazione urbana, soprattutto di quelle piccole e medie realtà che rendono ancora più bella e caratteristica l'Italia intera. Grazie a questi fondi riusciremo a realizzare gli interventi importanti di cui il nostro comune necessita.